Come risolvere un messaggio di errore il driver del display ha smesso di rispondere ed è stato ripristinato in Windows 11. Quando la memoria di sistema sta per esaurirsi e Windows non è in grado di allocare la memoria video, Windows si chiude e riavvia il programma per evitare un errore. Questo problema riguarda il sistema di grafica. Potrebbe apparire uno dei seguenti messaggi di errore. Il driver del display ha smesso di rispondere ed è stato ripristinato. Il driver del display IGFI ha smesso di rispondere ed è stato ripristinato. Il driver del display Enveria ha smesso di rispondere ed è stato ripristinato. Oppure il driver del display AT ha smesso di rispondere ed è stato ripristinato. Per risolvere il problema, provare i metodi descritti di seguito. Fase 1. Riavviare il computer per prepararsi alla risoluzione dei problemi. Riavviare il computer per eliminare gli indirizzi di memoria e preparare il computer a ulteriori procedure di risoluzione dei problemi. Fase 2. Aggiornare il driver dello schermo. Se si utilizza ancora la scheda grafica originariamente installata sul computer in uso. Installare un driver del display aggiornato. Individuare i driver del display aggiornati sulla pagina di download di software e driver all'indirizzo support.hp.com barra drivers. Fare clic sull'icona laptop o desktop a seconda del modello utilizzato. Fare clic sull'ascia che HP individui il tuo prodotto per richiedere il rilevamento delle informazioni del computer. In alternativa, è possibile inserire il numero di serie, il numero di prodotto o il nome del prodotto nel campo di ricerca e fare clic su invia. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare e installare l'aggiornamento più recente del driver dello schermo. Dopo aver installato il driver aggiornato, eseguire l'azione che si stava eseguendo quando si è verificato l'errore per la prima volta. Ad esempio guardare un film o riprodurre un gioco, per verificare se l'errore si ripresenta. Se nel computer è stata installata una nuova scheda grafica, individuare un driver del display aggiornato nel sito web del produttore della scheda. Il driver NVIDIA più recente può essere scaricato all'indirizzo www.nvidia.com. IAO driver AMD più recente può essere scaricato all'indirizzo www.support.amd.com. E l'Intel Download Center è riparibile all'indirizzo www.downloadcenter.intel.com. Fase 3. Installare gli aggiornamenti del computer utilizzando Windows Update. Cercare e aprire le impostazioni di Windows Update in Windows. Fare clic su Verifica disponibilità aggiornamenti. Se sono disponibili aggiornamenti, l'installazione viene eseguita automaticamente. Dopo aver scaricato e installato gli aggiornamenti, riavviare il computer. Fase 4. Regolare gli effetti visivi in Windows 11. Per regolare il computer e ottenere prestazioni migliori, disabilitare alcuni o tutti gli effetti visivi. Cercare e aprire visualizza impostazioni di sistema avanzate. Nella sezione Prestazioni, fare clic su Impostazioni. Nella scheda Effetti visivi, selezionare Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori. Fare clic su Applica, quindi su OK. Fase 5. Eseguire un ripristino del sistema di Windows. Se il problema persiste, ripristinare il computer alla sua configurazione originale. Microsoft offre una funzione di ripristino che consente di ripristinare il computer reinstallando il sistema operativo. Prima di utilizzare questa opzione, accertarsi di eseguire il backup di tutti i file importanti. Cercare e aprire le opzioni di ripristino in Windows. Nella schermata di ripristino, fare clic su Ripristina il PC. Seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare il computer. L'operazione può richiedere alcuni minuti. Fase 6. Sostituire la scheda grafica o aggiungere memoria. Se l'errore del driver del display continua, potrebbe essere necessario sostituire la scheda grafica o aggiungere memoria. Nota! Alcuni modelli di computer, come i computer HP TouchSmart All-in-One, non hanno una scheda grafica rimovibile. Controllare le caratteristiche tecniche del prodotto per verificare se la scheda grafica è rimovibile. Se la scheda grafica è rimovibile, individuare la procedura per la sostituzione della scheda nella guida all'aggiornamento, manutenzione e riparazione. Oppure il documento rimozione e sostituzione della scheda grafica. Sulla pagina prodotto del proprio modello di computer all'indirizzo support.hp.com. Se la scheda grafica non è rimovibile, contattare l'assistenza clienti HP. Sul canale YouTube di HP Support sono disponibili altri video utili.